Girls in Sport è il progetto del fotografo aquilano Stefano Colacchi. 12 discipline rappresentate da altrettanti atleti aquilane. L'energia e la femminilità esaltate attraverso gli scatti fotografici. Donne che tendono ad occultare nelle gare il loro lato femminile, che il fotografo invece attraverso la sua arte è riuscito a cogliere perfettamente. Dal corpo femminile possiamo avere tante sfaccettature diverse, quindi dalla bellezza all'energia alla sensualità di una donna che racconta il suo sport attraverso un'autobiografia, perché questo progetto che racchiude 12 sport, 12 discipline sportive, vengono raccontate attraverso un video dove le ragazze raccontano la loro autobiografia e attraverso un articolo stampa dove verranno fatte vedere le fotografie più belle e con la loro biografia scritta. Atlete ritratte durante gli allenamenti, ma anche nei momenti di vita quotidiana, in set cinematografici naturali. L'obiettivo principale di Colacchi è stato anche attraverso i suoi innumerevoli progetti fotografici sul territorio mettere in luce quanto di bello abbia l'Aquila in questo momento da offrire. Lo sport è come la musica, cioè lega la gente, quindi il tessuto sociale che in questo momento, in questa terra, è un po' dislocato. Lo sport lo riesce un po' a riamalgamare.